amici di caccio shop bentornati sul nostro canale youtube oggi ci troviamo a madeira sull'isola portoghese dove è nato cristiano ronaldo siamo all'interno del vulcano un vulcano spento quello dell'isola di madeira dove troviamo la nuova mercurial superfly cr7 creata da nike proprio per il campione portoghese il vulcano in madeira è un vulcano spento ma mantiene all'interno tutta l'energia potenziale che può avere la natura che è pronta ad essere sprigionata proprio sulla tomaia della nuova mercurial superfly cr7 infatti vediamo a livello grafico che è stata inserita una colorazione che ricorda proprio la lava del vulcano è una mercurial superfly quindi abbiamo il fit collar una tomaia in flyknit e tecnologia acc applicata su tutta la tomaia a livello grafico è stata cambiata rispetto alla precedente cr7 infatti non abbiamo più il logo grande sulla parte posteriore verso il tallone ma è stato incastonato quasi a sembrare un diamante la scritta proprio il logo del campione portoghese questa è la prima tappa di cristiano ronaldo quindi è dove è nato madeira nike vuole così iniziare a raccontare la storia di questo grandissimo campione che ormai non riesce più a smettere di battere dei record in campo su calcio shop troverete oltre alla suola sg pro che ho mostrato troverete anche la suola fg quindi per campi naturali e la suola ag per campi sintetici inoltre come ormai sapete troverete anche il resto della collezione quindi la versione bassa senza il fit collar vapor veloce e così via a scendere nei vari punti prezzo e le suole da calcetto ic e tf ricordate di iscrivervi al nostro canale youtube qua sopra e di rimanere sempre collegati su calcio shop.it Grazie a tutti